Oggi, in occasione del nostro congresso dell'hypnosis, abbiamo fatto un piccolo trattamento per uno dei nostri studenti che aveva un problema molto grande con il cuore. Abbiamo soltato il problema con la tecnica di Pisa, che era uno dei miei maestri, in alcuni secoli. Puoi guardarlo. Grazie. Questa parte di Pisa, arriva qui e poi non c'è più niente, giusto? Questa zona qua, giusto? Ok. Allora, ti chiedo un attimo, adesso farò un attimo una cosa molto, faccio degli occhi molto grossi ma non spaventarti. Tranquillo. Allora, guarda. Uno, due, tre. Mori. Com'è? Ancora un pochettino qua. Ma molto è già andato via. Quanto? Molto sì. Ok, perfetto, guarda. Uno, due, tre. Ok. Prova. Aspetta, chiudi gli occhi. Adesso. Adesso. Adesso non è io? Io sì. Ok, perfetto. Com'è? Adesso, hai detto. Adesso, allora io sono. Ok, perfetto. Per la prima. L'anno, le due, alle due, alle due, alle due, alle due, alle due. Un poi, alle due, alle due due. Alle due 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 due, alle due due due. Alle due due due. Grazie.